E ora andiamo in Sardegna, passi da Gigante a Sestu perché arriva la metropolitana di superficie che collegherà direttamente il centro con le fermate di Via Dante a Cagliari. Di Antonello Lai. Traffico intenso in questa parte del comune di Sestu davanti al municipio. Noi abbiamo la padrona di casa, signora Sindaca, buongiorno. Buongiorno. Forse il traffico verrà snellito dopo quello che ha presentato oggi. Sì, oggi è una giornata epocale, abbiamo presentato il nuovo tracciato policlinico Sestu della metropolitana leggera. Con 41 milioni stanziati con fondi PNRR siamo riusciti a completare una parte dell'anello della città metropolitana. In Saldone significa che da qua a Sestu arrivati in un colpo solo dalle parti di Piazza Repubblica a Cagliari o del Porto. Sì, arriviamo direttamente a Piazza Repubblica e quando saranno ultimati gli altri lavori proprio di fronte alla stazione dell'Arst. Con lei ogni settimana ci manda comunicati facendo delle cose. Innanzitutto le devo chiedere, ma dorme di notte? Hai riuscito a trovare il tempo per mangiare? Diciamo che sì, qualche volta, però non tantissimo. Non è che c'è qualcosa anche per i prossimi giorni, così lo so già da adesso. Sì, qualcosa ce l'abbiamo. C'è un milione e mezzo per la strada che collega Sesto alla Corte del Sole, Casa Cantoniera, un milione e mezzo di risorse pubbliche che ci sono state date, quindi sta iniziando la progettazione. Poi magari vi parlerò anche della Casa della Musica, ossia il futuro teatro con risorse già stanziate o il parco fluviale, anche esso fondi PNRR e fondi già stanziati. Ho capito, lei dorme ma sogna alla grande. Grazie.